Buongiorno, come stai? Bene. Bene. Dove siamo? Dove siamo? Siamo andati a mangiare una polioscina. Va bene. E adesso cosa facciamo? Grattiamo i grattini. Buongiorno a tutti e buona giornata. Bene. Ma non si vede niente che si è riflesso del mio braccio. Aspetta, vediamo. Oh, eccola, vai. Ah, questo è il mio braccio proprio in mezzo, no? Non si vede niente, mamma. Due euro solo. Cosa dice? Perché ti dice? Due euro. Ah, sveglia. Eh, la sveglia. Va bene. Sempre quella. Eh, ciò. E ti dai soldi per ricomprare il biglietto? Un fiore, una mela, biscotti. Grazie. 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 Vai. Grazie. Vincere. 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 Tosta pane. Tosta pane. Ano qua. Tosta pane. Ora. Ja. qui abbiamo una farfalla e un muffin 500 si, pattoni vabbè, dov'è? ti cacciate i soldi del biglietto per ricomprarlo a posto? a posto bene, adesso, vedi via distacchi quei manco i ventose che non si ruba nessuno dai su, vai gratta, gratta questi cominciai da qua vai un pi pi niente, niente 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 no niente un g eh ma non si canceva? si che si canceva, basta uno solo, dopo, e ci ancora, arrivo qua, dopo, e basta, finito, vai, avanti, gratta ancora, un X, eh, un X, sì, sì, come no, un X, niente, via, avanti ancora, un B, un B di Bologna, un B, un B, un J, un J, un J, un J, un J, un J, va bene va bene va bene basta jay non così dai va avanti no non così V V di Venezia vai neanche quello non mi ha segnato uno V ma un V aspetta che vediamo no 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 niente vai 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 sotto vai 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 un C un C di come? C un C un C un C un C di come? un C 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 Quanti mattutine stamattina? Hai visto che mattutine? Ah, ciò, 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 ciò. Era caldissimo, eh. Oh, madonna, stanotte proprio. E' un po' caldo stanotte? Si, si. Ma non ho niente a me, non ho niente a me, niente a me. Proprio a me ciappo tutto. Anzi, non avevo i zanzari che mangiava. Non avevo tanti mostri, mamma. Si? No, mi no, i zanzari. Zanzari, tavane, robe strane che mangia. Si. Allora, questo è il cu. Adì, ancora qua, mamma. Mamma, allora, metti i soldi. O qua, dì. E dopo, vediamo. Alla ballare, alla ballare, alla ballare. Mi aiuto. Acuti, la trovata, ecco, basta. Si, si. Non viene più, va avanti. Si, si. Va avanti, mamma. Non viene più. Non so se ti aspetti l'informazione. Oh, oh. Oh, oh. 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 Ok. Già fatto, bato, 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 no. Basta. Oh, avanti, grata. è ora qua adesso qua adesso qua adesso qua ora qua si ah 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 basta basta avanti si veniva un crampo il brasso e ad e qua un e